Poca Rocca, Placido MP, Ponzio Pilato Strapper, NLB, prestigiosa HBD, Palmaria Tecchiova in prima fila, in seconda Pickpunter Gara, Petra Diamond, Parisien Bar, Potere del Nord, Principessa, Rum. Macchina che stacca, all'avanguardia numero 5, prestigiosa HBD, intanto l'errore del numero 6, Palmaria Tecchiova, totalizzatore pagava 6,96, offerta a quota fissa in giro ad un'altra 30. All'avanguardia prestigiosa HBD, in seconda posizione Placido MP, in terza perna LB, intanto la squalifica per Poker Rocca, in quarta posizione Petra Diamond, la squalifica anche per Principessa, Rum. 28,7, il quarto iniziale, davanti alle tribune, all'avanguardia prestigiosa HBD, in seconda Placido MP, in terza perna LB, poi all'esterno la favorita Petra Diamond, che ha in scia Ponzio Pilato Strapper. All'avanguardia sempre prestigiosa HBD, così concorrente al completamento della piegata, paletto di metà corsa, 36 il secondo quarto, 14,1 la media per i primi 8, completati in 59,3, in vantaggio prestigiosa HBD, al suo esterno Petra Diamond, si va a completare così il giro in 1,14. All'avanguardia prestigiosa HBD, al suo esterno Petra Diamond, in terza Placido MB, quarto in fuori Ponzio Pilato Strapper, poi perna LB, su Palmaria Tecchiova. 29,3 il terzo quarto, sempre in linea prestigiosa HBD e Petra Diamond, in terza Placido MP, poi Ponzio Pilato Strapper, passa Petra Diamond, in vantaggio, avanti a Placido MP, poi Ponzio Pilato Strapper, Petra Diamond all'avanguardia su Placido MP, poi Ponzio Pilato Strapper, Petra Diamond che conclude su Ponzio Pilato Strapper, Placido MP, poi Palmaria Tecchiova. e prestigiosa HBD, 1,58,4, il tempo totale, media al chilometro, 1,14 netti, il successo della favorita Petra Diamond, 3,91 al totalizzatore, non si è vista quella che aveva poi in effetti chiuso da prima favorita, ovvero Parisien Bar, 9,32, il passaggio al traguardo per l'attrice nazionale, concorso 3.841. Grazie.